Nella notte la provincia di Reggio Calabria è stata interessata da un terremoto di magnitudo 2.7, come annunciato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul suo sito. Il sisma è stato rilevato alle 3.55, a circa 2 km a sud di Samo, ad una profondità di 10 km. Al momento non sono pervenute informazioni riguardo a danni, feriti o vittime.